Come da previsione, non si placca la polemica sulla questione postiletto che la regione Abruzzo avrebbe negato alla sanità terramana. Dopo la conferenza di accuse e la replica dell'assessore Veri, arriva puntuale la contro-replica del capogruppo di Abruzzo in comune, Sandro Mariani. «E' proprio vero, non c'è peggio sordo di chi non vuol sentire». Nicoletta Veri ha risposto mentendo, sapendo di mentire, rincara Mariani. Infatti, l'assessore regionale Veri cerca di giustificare i gravi danni inflitti alla sanità terramana con il classico gioco delle tre carte. Spara numeri sui posti letto, omettendo quelli della sanità privata che sono a tutti gli effetti dentro la rete regionale e così, nel suo comunicato di risposta ai miei attacchi, fornisce i dati dei posti letto per la provincia, trascurando di dare i numeri di quelli esistenti nelle strutture private accreditate, che giova forse a ricordare e ricordarlo all'assessore della sanità, concorrono a pieno titolo all'offerta complessiva di posti letto. «Credo sia chiaro, ormai a tutti, che Veri non dice il vero, indicando che a Teramo vi sono più posti letto delle altre province». E a dirlo non è Sandro Mariani, prosegue, ma proprio il nuovo piano della rete ospedaliera abruzzese, scritto da Marsiglio, Veri e Soci, ribatte Mariani, che continua a sostenere la sua tesi, carte alla mano, riferendosi proprio al documento ufficiale del riordino, indicando pagina e paragrafo. Questa volta però a replicare al consigliere regionale, non è la Veri, ma la Presidente Provinciale di Fratelli d'Italia, Marilena Rossi, una lunghissima nota in cui si fa un excursus storico delle vicende relativi alla rete ospedaliera, ricordando innanzitutto che correva il giorno 30 settembre 2015, quando la coppia d'attacco teramana dell'allora maggioranza regionale di sinistra, MAPE, Mariani Pepe, annunciava con una nota che la riorganizzazione del sistema sanitario sarebbe arrivata a breve in Commissione Sanità all'emiciclo. L'attuale maggioranza di governo regionale, con a capo il Presidente Marsiglio, oggi è riuscita a realizzare ciò che gli altri non sono riusciti a fare, ovvero l'approvazione in giunta della proposta di legge della nuova rete. Ricorda, in sintesi, Marilena Rossi.